ciao a tutti finalmente dopo poco più di un mese di fermentazione possiamo preparare la nostra salsa ai peperoncini fermentati vi mostrerò qual è l'errore da non fare assolutamente per evitare di dover buttare via tutto e vedremo insieme come salvare una fermentazione apparentemente ammuffita ringrazio ancora l'amico stefan che ci ha gentilmente donato questi peperoncini per poter realizzare questa salsa fenomenale nel frattempo dato che i miei peperoncini sono finalmente maturi ho potuto fare alcune varianti qui ho messo dei peperoncini super hot sul fondo e riempito con della zucca vedete quanto è attiva la fermentazione perché siamo all'inizio poi col tempo si calmerà qui abbiamo altre varianti qui invece ho messo dei tabasco in salamoia però non avendo più dei barattoli apposta per fare la fermentazione ho dovuto utilizzare per forza un barattolo con la chiusura meccanica in questo caso dovremmo prestare attenzione ogni giorno specialmente all'inizio della fermentazione sfiatare leggermente il barattolo basta aprirlo leggermente si sentirà uscire la pressione e richiudiamo e basta dopo circa una decina di giorni non sentiremo più uscire il gas e quindi lo possiamo lasciare li da parte tranquillamente a proseguire la fermentazione qui vediamo qualcosa di strano nulla di problematico tranquilli e lo capiremo andando ad annusare a un odore buono questa non è muffa ma è il famoso lievito cam un lievito innocuo che tende a formarsi volentieri quando fermentiamo peperoni pomodori e logicamente i peperoncini si forma più spesso quando abbiamo delle temperature elevate quindi in estate ma nulla di grave lo togliamo con un cucchiaio di legno o di plastica laviamo il peso sotto l'acqua puliamo i bordi interni con della carta ed eventualmente aggiungiamo poco aceto che farà abbassare un poco il ph quindi renderà meno ospitale l'ambiente per il cam l'errore che facciamo spesso è quello di dimenticarci dei nostri barattoli in fermentazione li prendiamo li mettiamo lì in un armadio e poi ce ne dimentichiamo intanto il cam si forma va avanti va avanti non è nocivo come dicevo prima però se si sviluppa e rimane lì parecchio adesso andiamo a vedere dicevo che l'importante è controllarli spesso ogni due tre giorni senza aprire ma solo così dall'esterno possiamo già capire se se si sta formando il cam e intervenire perché se ci accorgiamo tardi come in questo caso l'odore risulta estremamente pungente formaggioso e vi garantisco che è nauseante è sempre lievito cam come dicevo prima non è innocuo ma non è decisamente invitante questo purtroppo lo dovrò gettare nel compostaggio quest'altro invece è perfetto ma dovrà fermentare ancora per un paio di settimane anche questo è perfetto quindi la prima cosa da fare è controllare il ph dovrà essere sotto il 4 se no dovremo proseguire la fermentazione perché più tempo si fermenta e più il ph scenderà per misurare il ph abbiamo due sistemi tramite le cartine tornasole oppure tramite strumenti elettronici che sono anche più precisi vediamo come funzionano le cartine tornasole qui abbiamo un famoso prodotto sgrassante questo è basico mentre qui abbiamo dell'aceto che è logicamente acido mettiamo le cartine tornasole e andiamo a compararle col grafico l'aceto è tra il 2 e il 3 mentre lo sgrassatore è tra il 12 e il 13 adesso andiamo a testare i peperoncini prendiamo un po di salamoia e la mettiamo in un contenitore piccolino poi ci immergiamo completamente la cartina tornasole e attendiamo qualche secondo dopodiché andiamo a comparare la cartina con il grafico sulla confezione ci segna tra il 4 e 5 ma sono sicuro che questo risultato non è corretto o meglio dire poco preciso andiamo a vedere con lo strumento elettronico detto anche ph metro in commercio ce ne sono di diversi tipi e prezzi io ho preso quello che costava meno la confezione contiene lo strumento di misurazione due liquidi per calibrare lo strumento e un liquido neutro per mantenere sempre il sensore umido quando andiamo a riporlo nella confezione per calibrarlo è semplicissimo i due liquidi di calibrazione sono uno ph 4 l'altro ph 7 inserendo la sonda dello strumento in uno di questi liquidi ci deve dare questi risultati in caso contrario dovremmo effettuare la calibrazione seguendo le istruzioni che logicamente saranno differenti tra modelli e marche preleviamo della salamoia abbastanza da poterci immergere completamente il sensore dello strumento risciacquiamo il sensore sotto l'acqua dopodiché lo immergiamo nella salamoia muovendo un pochino poi andiamo a leggere i valori sul display abbiamo un ph di 3,48 bella differenza se comparato col risultato ottenuto dalle cartine tornasole con un ph di 3,48 sicuramente il botulino non potrà proliferare la salsa è sicura adesso possiamo risciacquare lo strumento e riporlo al suo posto togliamo le foglie che avevamo messo per evitare che qualche peperoncino salisse a galla durante la fermentazione poi togliamo il peso in un contenitore versiamo la salamoia e teniamola da parte dopodiché mettiamo i peperoncini nel mixer e frulliamoli per bene a questo punto possiamo sbizzarrirci come vogliamo possiamo inserire aglio cipolla prezzemolo rosmarino zenzero curry il cumino oppure un mix di tutte queste spezie l'importante è che siano rigorosamente secche prendiamo bottiglia e imbuto ma prima di imbottigliare controlliamo la densità se è troppo densa aggiungiamo della salamoia imbottigliamo chiudiamo le bottiglie e conserviamole in frigorifero in frigorifero si conserva per svariati mesi questa è cioè era la salsa fermentata che fa il mio amico stefan lui mette aglio secco a fine fermentazione e devo dire che ci sta proprio bene io la lascerò al nature lui filtra tutto bene utilizzando anche una pressa mi sembra e il risultato è una salsa liquida come il tabasco ma senza l'aggiunta di aceto questa è composta da solo peperoncini fermentati sapore intenso una bomba altro che tabasco buono buono bello all'inizio si sente il peperone all'inizio si sente il classico aroma di annum quindi di peperone logicamente tutto il gusto del fermentato dopo soltanto dopo dopo avere mandato giù arriva il piccante che logicamente non è a livello dei chinense ma si difendono bene in conclusione abbiamo visto come eliminare il lievito di cam e come evitare che si riformi abbiamo imparato che è importantissimo controllare quasi quotidianamente i contenitori in cui andiamo a fermentare così da evitare brutte sorprese ed evitare anche di dover buttare via tutto abbiamo imparato ad utilizzare le cartine tornasole per il ph e abbiamo anche visto come calibrare e utilizzare correttamente l'apparecchio elettronico e infine abbiamo visto come fare una salsa i peperoncini fermentati strepitosa grazie per aver guardato il video fino alla fine come sempre se avete delle domande lo spazio sotto è tutto vostro e piccanti saluti ciao 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 ciao